Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo su Axball e siamo in compagnia di un amico che si chiama Antokit. Bene, siamo su questo gioco di calcio e giocheremo, mettiti nel reddit è bravo, bene, iniziamo subito, dai Anto, mi sa che devi iniziare tu, no, non mi senti, partita contro il lag, infatti a me sta laggando. A me di meno, yeah. Oh, dai, mi stava laggando. Eh, pure a me, ho fatto solo. A me mi va a 999 figli, a 1250 figli. Vai, a me, a me. Dai, che lagg. Questa è la guerra contro il lag. Allora, ragazzi, veramente mi sta laggando un botto. No, gol! No, 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 no Abbiamo fatto due video, uno sul suo canale e questo qui che vedete, e lascerò il suo link in descrizione del canale e del video, andatevelo a vedere, a godere. Allora ragazzi, questo video si chiamerà anche la guerra contro il lag. Perché veramente, cioè stiamo facendo questo gioco solamente perché lag. Fatte ragazzi, a me mi sta l'accanto, vanno troppo. Sì, sì, ho segnato, ho segnato, segnato. Dai, io vado a Terpina Pink. Eh, io ne vado a 4.000. Napo. Se ti sto laggando più di te. No, ho mancato. Grazie. Tra poco che ti fai gol. Aiuto. Sta laggando troppo. Non mi segni. Ah ma, ah 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 ah, siamo facendo giro giro tutto sulla palla. Adoro ragazzi, veramente, mi sta laggando un botto. Che fa' andata la palla? Ah, eccole. Vai a prendere la palla. Dai, no. Libera. No ragazzi, impossibile giocarci eh. Ma io sto girando intorno alla palla e te la sto portando pure in porta tra poco. Dai. Nutella. Oh, dai. Il tiro. Sì. No, no, non ci posso credere. Due pari. Con 4.000 di lag. Pingo di lag. Per chi volesse giocare con noi. Lenzzo. Per chi volesse giocare con noi. Oh, ci trovate qui. Oh, ti ho segnato, 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 io me ne vado in porta. Oh, mille pingo. No. Dai, ragazzi. Aiuto. Aiuto. 1040 pingo. A me non si vedono i pingo. Stanno sotto, intelligenti. Quelli a destra a me non ci sono, come te non c'erano prima. Ah, vado a segnare. Papi, mi fai segnare, per favore. No. Mo ti faccio segnare io, guarda. Dai, vado. Dai, non ci credi, il lato maledetto. Uh, attenzione, attenzione, se ne va, proprio lui. Dzeko, segna proprio lui. Quando ti andavano i pimp? A me non c'è scritto, per farti capire. Cioè, che se quando vai a vedere il video non c'è. No, è vero. Bene, allora, se non ce n'è, se c'è, devi fare una penitezza. Ti giuro che non c'è, poi vallo a vedere nel video. Ok. No, dai. Dzeko, sono arrivato a 5, mi sa che ho vinto. Facciamo un'altra partita, dai. Siamo in partita. Mi sa che inizia proprio Anto Kit. Eh, infatti. Vai, inizia Antonio. Antonio, Antonio Kit. Dai. Dai, ragazzi. Team rosso contro team blu. Non siamo giocati a poche mangro, però, eh. Per farti fermi capire. Infatti. Anche il team giallo. Eh, eh. Consegni. Oddio. No, è bellissimo. No, il lag è assai. Ma il gioco è unico per il lag, perché se no laggasse non sarebbe così emozionante. Fighissimo. Perché facciamo giro, giro tondo sulla palla. Aspetta, che adesso ti faccio gol. Dai, non c'è. No. Non ci ho so credere. Dai, dai. Dai. No. Non mi hai segnato, non mi hai segnato. Oddio. Oddio. Ora ti segno? No, no, no. Non si deve segnare. Oh. Oh, è tu. No. No. 1-0 per i red. Non mi hai segnato. Che pizza. Togliti. 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 Ok, mi levo. Volevi. No. No, se ne va. Dai, che la vinco io, questa. Che pizza. Non segnerai mai. Nemmeno tu. Facciamo girerci. Oh, te. Ho preso il palo. Oh, se ne va. Dai. Gollo. No. No, non ci posso credere. Mamma mia, ragazzi. Togliti. Togliti. No. Oddio, l'ho mancato. Dai. Quella, è l'unico di questo gioco. Dai. No. E se i ping, non ci sono che devi fare tu, anche tu devi fare una penitenza. Ti faccio fare. Dai. A me non stanno, per dire, a me non stanno i ping, tu hai detto che se stanno mi devo fare la penitenza, invece se non stanno te la fai tu, ti bevi l'acqua della tazza del cesso. No, no, mai sia. No, dai, cancelliamo tutto questo. L'acqua della tazza del cesso ti bevi. No. Sì. Mai sia. Invece devi. No, perché questa penitenza è cancellata. Oh, no, allora, se vengo sta vita la devi fare tu la penitenza. No, 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 no. Dai. Oh, no, io non ci sto. E perché lo? Come tu hai annullato l'altra penitenza, io ti annullo questo, siamo pari. Ok. Lezzo, lezzo, vado a segnare. No, 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 no. Non ci posso credere. Non ci... No, 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 dai. Cioè... È una cosa impropolibile. Cioè, ma non è che dici che potevo pure segnare. Madonna. Ma la Madonna. Era disponibile questo gioco. Ma dai, mi gira sulla palla. Vecca, aspetta, sta la palla. Non lo vedo. Aspetta, potevo tirare. Ma la vedi la pallina bianca? Io no. Consiglio al tonico. Io sì. Dove sta? Aiuto. Qui, sul calcio d'angolo. Io sto segnando, guarda. No, peccato. Ora la vedo. Perché se non ti so... Dai, mi faccio 4.000 ping. Moddio. Dai, ragazzi. Sì. Lo studio sono contro il lag. Dai, 4 minuti, un altro minuto, un vinco. No. Dobbiamo dare i rigori. Vabbè, il fatto che i rigori non esistono. Vabbè, ti taglio. Infatti, peccato. Ma perché? Dai. No, raga, impossibile. Ho schiacciato qualcosa. 4. Dai. No, no, no. Puoi perdere tutto il tempo che vuoi, ma questa partita l'ho vinta. Do vinta. Io sto cercando di prendere la palla, ma neanche tu mi pressi per dire. No, vinta io. Io. No. 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 Mamma mia. Va bene, ragazzi. Per oggi è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Qui da Richie è tutto. E da Antokit. Bella a tutti, ragazzi. E noi ci vediamo qui. 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 Grazie a tutti.